ciao amiche ciao amici come state? spero stiate bene, io sto molto bene, spero, sono appena tornato a Taranto e sono andato a fare il tampone per vedere se sto davvero bene, per vedere se sono positivo oppure negativo, spero di essere negativo e quindi di stare bene... andiamo a fare il test papà allora papà quali sono le tue previsioni per questo test? ma io sono fiducioso che stai bene e che non ci siamo problemi è uno dei tanti test della vita sappi sappi che purtroppo molti si sono contagiati più andando a farsi queste analisi che avere il presupposto o il giudizio di dire forse sono asintomato ma scusami a questo punto non vado proprio a fare il test? eh lo so così risparmi pure i soldi l'ho o non ce l'ho? io dico che non ce l'ho nel video di oggi parliamo dei modi di dire con la parola parola appunto infatti gli italiani utilizzano questa parola abbastanza spesso quando si tratta di modi di dire io ne ho trovati più di dieci e sono sicuro che sono davvero utilizzati e magari possono esservi utili come vi avevo anticipato sta nascendo il sito di italiano in sette minuti e in realtà non sarà proprio un sito ma saranno dei link a un archivio notion che ho deciso di creare e spero vi sia utile se non vi è utile fatemelo sapere se vi è utile fatemelo sapere nel caso della lezione di oggi troverete tutti i modi di dire con la parola parola troverete il video la trascrizione e ci saranno anche siti poesie canzoni che contengono la parola parola ad esempio mina che canta parole parole ascorossi che canta senza parole sacco di parole fatta questa premessa oggi parliamo di modi di dire contenenti la parola parola non parliamo di tutti ho fatto il tampone ho tra la faringe e il naso un fastidio tremendo innanzitutto parliamo dei modi di dire con la parola parola che quantificano quante parole ci sono ovvero si può dire mezza parola una parola e due parole si dice mezza parola quando abbiamo un accordo con qualcuno che però non è un accordo confermato quindi si dice sì ci siamo dati una mezza parola ma non siamo ancora completamente d'accordo per esempio una parola si usa per dire che è qualcosa difficile da fare ad esempio voi potreste dirmi Simone perché non nuoti da Roma a Cagliari e io potrei dire è una parola cioè è come dire è facile dirlo a parole ma è difficile farlo quindi quando sentite dire qualcuno è una parola significa è facile dire quella cosa ma è molto difficile da fare oppure il terzo modo di dire che riguarda il conteggio delle parole è dirsi due parole o dirsi due chiacchiere ci siamo detti due parole ci siamo detti due frasi al volo e poi siamo andati via quindi ieri mi sono incontrato con Luciano e ci siamo detti due parole come dire abbiamo avuto una breve conversazione non abbiamo altri modi di dire che quantificano le parole quindi non esiste tre parole non esiste in realtà dammi tre parole non esiste né tre parole né quattro parole come espressione nei numeri successivi anche se piuttosto che dire abbiamo detto quattro parole esiste l'espressione abbiamo fatto quattro chiacchiere o ci siamo detti quattro chiacchiere e poi magari in un altro video vi parlerò di che cosa sono le chiacchiere e perché si quantificano o a due o a quattro due chiacchiere quattro chiacchiere esistono poi i modi di dire con la parola a parola che riguardano la fiducia ovvero il fidarsi di qualcuno io potrei dirvi vi prometto che nel 2021 pubblicherò 80 video proprio come ho fatto nel 2020 vi do la mia parola dare la parola significa promettere qualcosa significa fidatevi di me quindi quando date la parola a qualcuno può essere che stiate facendo una promessa può essere ad esempio che io dica mamma dopo pranzo vado a buttare la spazzatura ti do la mia parola mettere una buona parola io posso mettere una buona parola per un mio amico che sta cercando un lavoro in pizzeria ad esempio io conosco il pizzaiolo il pizzaiolo sta cercando di assumere qualcuno ma non trova nessuno può essere che io vada dal pizzaiolo gli dica pizzaiolo pino assumi tommaso quindi sto mettendo una buona parola per tommaso questo significa mettere una buona parola ovvero raccomandare oppure consigliare qualcuno a qualcun altro quindi voi mettete una buona parola sulla persona che consigliate un altro modo di dire che si riferisce sempre alla fiducia verso qualcuno è prendere in parola ovvero io prendo in parola quello che simone mi ha detto ad esempio simone è un insegnante di italiano e dice vi prometto che nel 2021 io farò 80 video per gli studenti della lingua italiana e io claudio potrei dire simone ti prendo in parola mi raccomando io aspetto questi 80 video quindi prendere in parola significa accogliere quella promessa ed aspettare quella cosa quindi aspettare che quella promessa venga rispettata può essere che io vada dal fruttivendolo e il fruttivendolo mi dica queste arance sono le arance più buone d'italia e io gli potrei dire va bene ti prendo in parola anche se non c'è qualcosa che dimostri quella cosa quindi noi comunque ci stiamo fidando della persona che ci dice qualcosa ci fa una promessa e noi prendiamo in parola quella persona o perché già ci fidiamo di quella persona oppure perché in quel momento ci vogliamo fidare di quella persona altri modi di dire con la parola parola sono restare senza parole che significa non sapere cosa dire può essere che io dica sono rimasto senza parole davanti a quel a quello spettacolo davanti a quel panorama può essere che abbiate un amico o un'amica di poche parole qualcuno che è molto sintetico qualcuno che usa poche parole per esprimersi può essere una buona caratteristica alle volte però alle volte può essere anche una cosa strana che qualcuno non abbia tanta voglia di parlare e quindi si può dire quello è un uomo di poche parole una persona di poche parole l'ultima espressione di cui parliamo oggi è non è detta l'ultima parola può essere che la vostra squadra del cuore o la nazionale italiana potresti dire e potresti ancora sperare per la nazionale italiana dicendo beh non è detta l'ultima parola può essere ancora che riusciamo a pareggiare o può essere ancora che riusciamo a pareggiare e poi a vincere mentre se all'ottantacinquesimo stessimo perdendo dodici a zero allora l'ultima parola è più che detta cioè non c'è modo di evitare che quella cosa succeda come vi avevo anticipato condividerò con voi il link ad una pagina che vi permette non solo di vedere tutti i modi di dire con la parola parola ma vi permette anche di visualizzare i siti da cui ho preparato la lezione vi permette di vedere un paio di poesie che ho selezionato sempre contenenti la parola parola e poi di ascoltare le canzoni contenenti la parola parola che io ho scelto per questa lezione e sono nove canzoni quindi sono un po' non le ascoltate per forza tutte insieme e niente spero che la lezione di oggi vi sia piaciuta presto ci sarà anche un video in cui vi faccio gli auguri di natale perché è importante fare gli auguri e volevo anche rivedere il video dei buoni propositi del 2020 che ho fatto perché ne voglio fare uno in cui vi parlo dei miei buoni propositi per il 2021 che dire spero che possiate stare bene con le vostre famiglie, i vostri amichetti, le vostre amichette, i vostri cari, le vostre care senti mamma che bei biscotti che stiamo preparando sono dei dolcetti per il bambino chi è il bambino? il bambino che è un po' cresciuto ah quindi sono io esatto senti io vorrei fare una lezione in italiano in cui tu insegni anche a cucinare ah interessante che cosa ne pensi? allora può andare sì però voglio cercare qualcosa di pugliese sì della nostra tradizione della tradizione natalizia eh va bene che ne pensi? io sono d'accordo ok e quando diamo appuntamento? e ora vediamo un po' dai adesso in questi giorni facciamo sapere in questi giorni sì va bene magari anche fra natale e capodanno fra natale e capodanno e se non facciamo un tempo per natale vediamo va bene questo che cos'è? eh ricette antiche ma proprio antiche va bene va bene va bene va bene che belli ora venivano a mangiare tutti fa nemmeno uscire dal forno da dieci minuti sono pronti eh questo ho cucinato anch'io ho contribuito va bene ci sto ci sto della tradizione pugliese cosa è che potremmo portare ai nostri studenti di lingua italiana? o dei dolcetti sì oppure possiamo fare delle frittelle che sarebbero le pettole le pettole a natale? le pettole poi le possiamo fare sia in versione dolce con lo zucchero e sia in versione salata va bene noi aspetteremo che i nostri studenti ci dicano oppure un primo non lo so cosa vogliono ah ecco perché siamo su un canale democratico e certo quindi noi aspettiamo che gli studenti vediamo cosa votano dai esatto ma non c'è una votazione ma non c'è una votazione cosa preferiscono allora esatto niente ci vediamo nel prossimo video come sempre grazie ai miei patreon a chi mi supporta su cofai a chi mi lascia un mi piace mi scrive un commento grazie a tutti siete molto gentili e io cerco di rispondere sempre a quante più persone possibili vi ricordo anche che tutto quello che faccio è gratis perché non voglio che ci sia una disparità tra chi può pagare e ha accesso a un tipo di materiale e chi non può pagare e non ha accesso a quel materiale quindi se doveste decidere di supportarmi economicamente su padron non troverete niente di più di quello che già non trovate su youtube tra i commenti nelle descrizioni perché c'è tutto gratis cos'altro? basta ci vediamo nel prossimo video io sono contento di essere a Taranto presto vi farò anche sapere come è andato il tampone che è importante sapere come è andato il tampone e niente ciao ma stiamo registrando ma penso di sì che cazzo vuol dire questa cosa? la rifacciamo delle parole... minchia tutti i moli devono fare i lavori questi che cazzo vuol dire